Sono partiti in questo momento, forza ragazzi, pimpanti! La prima parla è il gestire della Juventus, la fascia di sinistra da Padoin, che l'ha subito indietro per Chiellini. Per sbloccare questa partita, algo! Pado, gol! E c'è il gol! Gol! E il gol! E il gol! Credo Migliaccio! Gol dell'Atalatta sul calcio d'angolo! C'è una partita! La pelata di Migliaccio! Allora gol dell'Atalatta! Gli hanno facilità, perché Fabio il pallone scivola, scivola come sa bene Chirico, scivola e va nell'angolo! Gol di Migliaccio, l'onda, l'onda Moretti, l'onda! Arriva a questa distanza, tiro violentissimo e sportiello con la mano, De Vì è calcio d'angolo! Tirlo su in mezzo, Bolucci di testa! Ma piccana dentro! Gol! Gliorente! Gliorente! L'Orente! Gol! Gol! No, no, no! No, no! No, no! No, no! No, no! Calmo! Sei impazzito, con Pil! Tu che non ci credi mai! Infatti, una fiera di Valium non mi puoi mica spaccato lo studio! No, no, no! Siamo impazziti! Eh, ragazzi, è fuori di testa questo, mi spaccato lo studio! Calmo, eh! Cambio a dire! Pirlo, prova lui! in tiro! Grandissimo gol di Pirlo! Grandissimo gol di Pirlo! Grandissimo! Tieni Cesare, ti riammettiamo dopo il gol! È tornato fuori! Allora, un gol meraviglioso! Chi è risciuto prima? Allora, questo... Un grandissimo gol di Pirlo! Un tiro meraviglioso da fuori cazzo tutto l'onda, l'onda Moretti!